Siamo con la signora regina dell'azienda agricola Le Rose, ce lo spiega lei stessa, di che cosa vi occupate? Allora, noi siamo un'azienda biologica che è situata fra Genzano e Velletri, produciamo soprattutto vini bianchi, le nostre vigne sono trattate solamente con elementi naturali, assolutamente non prodotti chimici, produciamo soprattutto vini bianchi, sono dei vitigni autoctoni tipici di questa zona. La bellezza della nostra azienda è che sta proprio davanti al mare, quindi è una posizione privilegiata. Abbiamo anche dei vini rossi, però mentre prima erano situati ad olevano romano e non erano biologici, abbiamo deciso da due anni a questa parte di piantarli invece nella nostra azienda, così che tutta la nostra produzione possa essere totalmente biologica. Come mai questa scelta? Perché ovviamente puntiamo sulla qualità dei nostri prodotti, quindi il fatto di avere magari un vino che non fosse all'altezza degli altri ci ha fatto pensare che dovessimo puntare in alto. Che tipi di vitigni avete? Allora c'è la malvasia puntinata che era già presente nell'azienda ed è tipica di quella zona, poi invece l'abbiamo già trovata quindi lì, poi invece il trembian verde l'abbiamo piantata diciamo nuovamente lì. Poi abbiamo anche una vendemmia tardiva, che è il nostro ultimo, che è una vendemmia tardiva, quindi l'uva appassisce direttamente sulla pianta, quindi non viene diciamo colta e viene fatta appassire in cantina. È molto particolare, si accompagna benissimo con la biscotteria secca, con i formaggi molto stagionati, quindi insomma è un buon prodotto. Da quanto siete aperti? Allora, la nostra azienda è nata nel 2003 e poi la commercializzazione dei nostri prodotti avviene dal 2007 circa. Siete un'azienda a gestione familiare? Esatto, siamo diciamo prevalentemente tutte donne, c'è chi si occupa del commerciale, chi dell'amministrazione, però insomma siamo tre donne e il nostro boss è insomma mio cognato, ma è lui che gestisce tutta la baracca, però insomma è una conduzione familiare, sì. Com'è l'esperienza di un'azienda tutta al femminile? Bellissima, andiamo molto d'accordo, è molto bello, sì. Siamo una famiglia molto unita e anche a livello lavorativo riusciamo a gestirci bene, insomma. Quindi lavorate sullo stesso fronte, diciamo. Sì, 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 collaboriamo bene, devo dire bene, sono soddisfatta. Bene. E ci divertiamo anche molto questa sera. Soprattutto, è importante quello. E la caratteristica dei vostri vini qual è? A parte il fatto che siano biologici, nel senso che il sapore è al gusto come si presentano? Sono molto profumati, molto profumati, molto buoni, si accompagnano ognuno con dei piatti particolari. Insomma poi sul nostro sito ci sono spiegate tutte le informazioni, anche come accompagnare i vini con vari piatti specifici. Ad esempio il bianco, che bianco è? Allora, per esempio il, diciamo, il trearmi è quello un pochino più leggero. Invece il colle dei marmi, che mi sembra un 14 gradi, diciamo, va accompagnato, è un pochino più strutturato come vino, quindi si accompagna con piatti un pochino più importanti. Ripeto, l'ultimo invece si accompagna bene con i formaggi molto stagionati, con la biscotteria, con le ciambelline al vino tipiche di questa zona. Invece i rossi è un 100% cesanese, quindi con anche una bella fettuccina al suco di lebre, al cinghiale, insomma, un viteltonne, certo, sì, sì. Il suo piatto forte con i vini della vostra azienda? Il mio! Il mio piatto forte, una volta ho provato a cucinare il piccione, perché mi ha detto il mio cognato che era consigliato con il nostro colle dei marmi, e mi è venuto molto bene. Un piccione con una particolare salsa, che è un piatto insolito, però mi è venuto bene. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi.